Claudio Mazzola Preferisce glissare sulla manifestazione contro fascismo e intolleranza Luigi Di Maio dopo che ieri aveva parlato di strumentalizzazione del PD Noi abbiamo già condannato i fatti di como, dice il candidato premier dei 5 Stelle che parla d'altro e nel suo giro al nord sceglie invece i temi locali come la rete idrica e in ambito nazionale lo scenario post voto se il movimento arriverà primo Chiederemo l'incarico di governo al Presidente della Repubblica avvieremo tutte le consultazioni intorno ai temi dell'impresa intorno ai temi legati al welfare per le famiglie che fanno figli intorno ai temi legati ai contratti di lavoro per i giovani e chiederemo la fiducia